La CSA Semi di Comunità si trova a nord di Roma, praticamente qui abbiamo circa 5 ettari, di cui 2 ettari e mezzo, quasi 3, che coltiviamo e il restante è a bosco. Praticamente stiamo cercando di coltivare più o meno tutto, perché l'idea è di produrci il nostro cibo, quindi più varietà abbiamo, più mangiamo variegato e più siamo contenti, più stiamo bene. L'anno scorso siamo partiti con circa 40 varietà di roba, quindi da peperoni, melanzane, pomodori, insalate, ravanelli e quest'anno tra estivo e invernale l'idea è di coltivarci una novantina di varietà, tra cui ci sono 4 varietà di pomodori, 4-5 varietà di melanzane, cavoli a dismisura, radicchi, di tutto insomma. Tutto questo non viene deciso a monte, ma viene deciso da tutti, quindi abbiamo fatto una riunione e su base dell'anno scorso, perché noi abbiamo circa un anno di vita, siamo nel parco di Veio e questo ha dei suoi pro e dei suoi contro, nel senso il pro è che comunque è un ambiente molto tutelato, il contro è che è difficile comunque costruire anche solo qualche struttura, perché insomma ci sono dei vincoli molto stretti. CSA Semi di Comunità è nata il 23 gennaio 2019, abbiamo iniziato a coltivare i campi a marzo 2019 e quindi abbiamo fatto tutto l'anno scorso, eravamo 50 soci, adesso siamo circa 230 e abbiamo raggiunto anche a livello di produzione, prima davamo da mangiare a circa 30-40 famiglie, adesso diamo da mangiare a 120 famiglie e siamo più o meno a livello di produzione, al nostro massimo, a livello di orto. Dopodiché diciamo che il progetto è nato da un'iniziativa di un'associazione che si chiama MCF, Mondo Comunità e Famiglia, che ha creato un gruppo che è stato chiamato Incubatore di Idea, appunto da questa incubazione di idea, dopo un bel po' di mesi, se non dire anche anni, di riunioni e così, siamo arrivati anche per vie casuali a strutturare e a decidere di fare una CSA. Una CSA in italiano si può dire Comunità che supporta l'agricoltura, in inglese è Community Support Agriculture, è un modello organizzativo di fare agricoltura diverso, è una comunità che sta attorno al produttore agricolo, che si stringe attorno e che si prende gli oneri della produzione e i rischi e i benefici. Diciamo che è diverso da un gas, da un gruppo di acquisto solidale, perché le persone compartecipano del rischio di produzione dell'agricoltura, quindi aiutano l'agricoltore non solo decidendo ad inizio anno il percorso che... cioè decidendo le culture che vanno in qualche modo messe insieme. I soci si dividono gli oneri, i rischi e i benefici e anche gli eccedenti, perché molto spesso in aziende agricole gli sprechi sono elevati perché si è affacciato ad un mercato e quindi devono vendere un bel prodotto e quindi magari il cliente non glielo comprerebbe se un'insalata magari è un po' ammaccata, un po' bruttina. In questo caso da noi questi problemi non ci sono perché noi non c'è scambio di denaro, non c'è vendita, c'è ridistribuzione, quindi questo metodo permette di stare più... cioè di eliminare completamente gli sprechi, quindi tutto quello che c'è si ridistribuisce fra i soci. E questa è la cosa interessante che venendo a raccogliere, a partecipare alla vita della comunità che si sta creando, c'è una condivisione del momento della raccolta, della suddivisione, il pranzo insieme e in più se avanza qualche cosa, perché non è che tutto si possa dividere in parti uguali quindi magari qualche cosa avanza, il socio volontario ha la possibilità appunto di evitare che questo prodotto venga sprecato, buttato, mandato al macero e ha la possibilità di portarsi a casa una mini cassetta che comunque è lo stesso prodotto, della stessa qualità e fa piacere condividere qui dei momenti per poi portarsi a casa anche un prodotto di ottima qualità. Noi siamo divisi in soci fruitori, cioè che fruiscono mettendo una quota annuale o anche mezza quota, dipendendo dalle quantità che sono necessarie al nucleo familiare. Sono soci che fruiscono, per esempio sono un socio fruitore a una mezza quota, però sono anche un socio volontario perché voglio venire sui campi. È richiesto almeno un apporto di aiuto di quattro giorni all'anno per i soci fruitori, poi la maggior parte dei soci vengono molto più che quattro giorni all'anno perché c'è voglia di partecipare, di fare agricoltura insieme e non solo perché noi stiamo costruendo lentamente una comunità. Ci basiamo sul cibo perché è la cosa più pratica e più immediata dal quale è facile secondo me costruire una comunità. Però poi è il nostro anche un atto politico in qualche modo perché non è solo il cibo ma è tutto quello che c'è attorno. È un modo di stare a contatto con i campi diverso, è un evitare di andare alla grande distribuzione perché vogliamo remunerare il lavoro in un modo diverso e non appoggiare magari lo sfruttamento che la GDO purtroppo pratica. E non siamo chiusi però perché siamo una comunità inclusiva, siamo nati da poco, chiunque può venire sui campi può partecipare, infatti i soci fruitori sono quelli che in qualche modo mangiano, ma poi ci sono tutti gli altri soci volontari che vengono qua e tre ettari, insomma, bastano per 80 quote, però ci sono molte più persone che vogliono partecipare e quindi queste fanno comunque parte della comunità e sono soci e possono venire, dopo essersi iscritti e essere diventati soci, possono venire a partecipare ai lavori sui campi. Si diventa soci della CSA in realtà soltanto andando su internet, compilando un formulario e pagando la quota associativa. Poi in realtà può succedere, come nel mio caso, che si diventa volontari prima e poi soci, quindi io ho cominciato a venire e poi successivamente ho deciso di diventare anche socia. Quello che abbiamo notato è che chi viene sui campi perché è interessato al progetto e vuole diventare socio, o socia, insomma, se viene e vede quello che facciamo è molto più consapevole, è più consapevole di quello che si va a fare perché, per esempio, l'anno scorso ci è successo invece che tanta gente è diventata socia manco vedendo i campi ed è stato un problema perché poi si aspettava il gas, ok? E quindi c'è stato un lavoro grosso a livello di comunicazione dove è stato spiegato sono state invitate sui campi a quel punto e quindi adesso la prassi è proprio questa. Quindi chi è interessato, noi diciamo, guarda, prima di diventare socio, vieni sui campi. Ti piace? Sei convinto, eh? Allora diventa socio. E una cosa che è fondamentale, secondo me, è che abbiamo deciso all'inizio di tenere la quota associativa molto bassa di 100 euro perché a noi non servono soldi, serve partecipazione, servono idee, servono teste e è quello, è quella la cosa fondamentale. Poi di che annualmente si può accedere alla quota verdure, quindi si può diventare soci fruitori, cioè quelli che mangiano poi e qui entriamo poi nel campo del preinvestimento. Quindi il socio fruitore preinveste nella produzione quando abbiamo deciso tutti insieme tutti i costi, quindi cosa mettere in campo in base a quello, decidere tutti i costi, vediamo quanti soldi bisogna tirare fuori ciascuno e una volta coperti i costi partiamo con la produzione. È vero, la CSA è aperta a tutti, ma il terreno è quello che è, per cui l'auspicio è che si creino altre CSA a Roma e in tutta Italia perché bisogna, anche lì, non è auspicabile che la CSA di Roma Nord porti le verdure a Ostia. Si spera che a Roma Sud si crei un'altra realtà simile di aggregazione. Anche qui però c'è un altro strumento sociale che rende il progetto ancora più orizzontale e più inclusivo, l'asta delle quote. L'asta delle quote e in poche parole cosa succede? C'è un piano economico, facciamo un esempio molto pratico, non so, ci sono 80.000 euro di costi, siamo in 100, facciamo 80 diviso 100 e sono 800 euro ciascuno. Però, appunto, non tutti magari possono accedere a questa, insomma, non hanno le possibilità, magari qualcuno non ha le possibilità e quindi si fa un'asta della quota. Il che vuol dire che qualcuno offre di più per dare la possibilità a qualcuno di offrire un po' di meno. Quest'anno l'abbiamo usata per la prima volta e noi abbiamo chiuso il nostro piano economico con 600 euro di più. Quindi, vuol dire che c'è stato qualcuno che ha offerto molto di più e qualcuno magari è riuscito ad offrire molto di meno per poter accedere comunque allo stesso quantitativo di cibo. Quota, io ho dato 500 per una quota, lui ne ha dati 900, però la quota rimane quota. Ho fatto una decisione di tutti di fare, di usare questo strumento. Quindi, anche perché appunto se non utilizzavamo questo strumento alcuni soci fruitori non avrebbero potuto accedere a quel cibo perché non avevano la capacità economica. E appunto un altro obiettivo fondamentale del progetto è l'accesso al cibo perché se il cibo non è accessibile ma deve essere il cibo buono deve essere solo d'elite il cibo biologico che costa come un lingotto d'oro non ha più senso, non ha senso niente. Allora, il terreno su cui siamo è in affitto è un affitto accomodante diciamo ed è praticamente sono dei soci che fanno parte appunto della CSA che ci hanno dato un po' in usufrutto gratuito e un po' in affitto quindi una parte in usufrutto e una parte in affitto. Per quanto riguarda la distribuzione effettuata la raccolta che di solito è il martedì pomeriggio e il mercoledì il mercoledì stesso si effettua la suddivisione di tutto quello che è stato raccolto in base appunto ai punti che abbiamo e al numero di soci fruitori alcuni prodotti vengono suddivisi in base al pezzo quindi all'unità e altri invece in base al peso quando la quantità è facilmente suddivisibile tra gli otto punti che abbiamo e questi otto punti sono suddivisi su Roma e ognuno dei soci fruitori si occupa appunto di lavorare nella distribuzione qui in sede e poi ci sono otto soci che si occupano di prendere di caricare appunto tutta la parte da distribuire in un determinato punto e portarla con la propria macchina se è possibile o comunque ecco in maniera abbastanza semplice direttamente le persone che vengono qui poi portano i prodotti al punto di distribuzione i soci fruitori si richeranno al punto di distribuzione e sapranno quant'è la parte che gli spetta quindi non c'è una cassetta che è prestabilita ma avranno una tabella con le quantità che possono prendere e andranno a prendere loro stessi le quantità di zucchine e pesarsi i pomodori quindi va anche molto sulla fiducia perché non c'è nessuno che controlla il momento in cui il socio fruitore va a prendere la propria cassetta quindi questo vuol dire anche che uno non deve prendersi i peperoni migliori o le melanzane più belle ma fare appunto una scelta pensando anche a chi verrà dopo noi diciamo sempre questo è un esperimento sociale comunque anche per noi stessi sia come produzione sia come distribuzione e come fruizione insomma e appunto sulla distribuzione appunto sulla distribuzione c'è stato un punto di distribuzione dove per esempio all'ultimo o arrivava la roba sempre più brutta o non arrivava addirittura la roba alcune volte sono stati errori magari qua nella divisione però poi ci siamo accorti che c'era anche qualcosa che non funzionava nella fruizione nel prendere il prodotto e quindi in autonomia il punto di distribuzione ha fatto una riunione e dopodiché è venuta fuori l'idea da uno dei soci di provare a fare di non fare la propria cassetta di non comporre la propria cassetta ma di comporre la cassetta per quello che viene dopo è stato un allenamento a dire ok questa non è la mia cassetta ma è la cassetta di quello che viene dopo quindi io devo prendere e dare a quello che viene dopo ciò che c'è nella cassetta monovoletale quindi senza scegliere e questo è stato un bel esperimento che addirittura adesso l'abbiamo esteso a un altro punto di distribuzione perché c'era un problema simile e abbiamo visto che più o meno le cose stanno migliorando il punto di distribuzione non è stato ideato prima che ci fossero i soci ma è stato ideato perché perché in quel luogo c'era un nucleo abbastanza grosso diciamo numeroso e per far sì che c'era l'esigenza di far arrivare le verdure in quel posto e quindi si è chiesto ai soci di di cercare un posto per far arrivare le verdure e i nostri punti sono centri sociali ci sono due parrocchie case private c'è un vivaio di verdure di piante insomma e così quindi anche lì c'è proprio la varietà della varietà noi dividiamo le cassette in mono in mono varietà cioè nel senso lì a quel punto servono 10 kg di pomodori 5 kg di peperoni e 3 kg di insalate ok dopodiché ognuno quindi queste cassette arrivano al punto di distribuzione e sono sempre mono varietali ok e il socio fruitore in fiducia va prende e si compone la cassetta in quest'anno i soci sono aumentati parecchio e anzi durante il periodo di di lockdown proprio perché era consentito andare all'orto e quindi spostarsi per fare questa attività c'è stato un aumento sia dei soci che della partecipazione sui campi un giorno eravamo 30 più di 30 forse a raccogliere anche lì stando attenti tu vai su quella fila tu su quell'altra perché bisogna stare attenti al distanziamento però c'erano 30 persone a raccogliere c'è molta partecipazione al di là del lavoro sui campi facciamo diversi eventi abbiamo fatto la proiezione di un film e ne faremo altre perché è proprio l'idea di fare una comunità anche di responsabilizzare le persone quindi per questi punti di distribuzione sono strutturati in modo che ognuno debba crearsi la propria cassetta anche la gestione degli spazi è vero ci sono due soci lavoratori ma ci troveremo prossimamente noi soci volontari a risistemare tutta la parte di cucina perché tutti la usiamo e quindi è importante che ognuno faccia un pezzettino e poi ci sono i tornei a bigliardino le serate passate anche solo a chiacchierare ci sono dei tramonti stupendi è proprio bello venire qua ti senti proprio a casa è una seconda casa dire che abbiamo creato la comunità è presto per dirlo nel senso che è un processo quello che almeno io sto notando è che è molto delicata questa cosa quindi bisogna costruire bisogna costruire una struttura per riuscire a stare insieme perché siamo tutti diversi ci sono tante tante vite diverse e è vero c'è un elemento forte che è il cibo che ci tiene insieme però non basta bisogna lavorare su se stessi e quindi anche qui piano piano stiamo cercando di 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 capire che strumenti utilizzare non li abbiamo ancora penso questi strumenti e però la cosa sta funzionando per ora e però appunto ripeto sono 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 cose delicate che vanno 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 curate bisogna avere cura dei rapporti prima del lockdown l'idea di c'è uno strumento per per creare comunità era anche la condivisione dei saperi che una volta al mese cercavamo di fare un corso di formazione ovviamente che si molto aderente al mondo agricolo ma neanche troppo nel senso faccio degli esempi produzione di saponi naturali potatura di olivi costruzione di forno in terra cruda le idee poi sono tante l'idea era proprio mettere la propria competenza a come si chiama come si dice a disposizione di tutti i soci però a livello gratuito quindi è far girare la propria conoscenza senza poi avere un ritorno economico condivisione pura della cosa questo abbiamo visto che ha funzionato molto e funziona molto cioè quindi la condivisione del sapere aiuta a costruire dei legami tra le persone le mie esperienze personali io ho conosciuto la CSA agosto dell'anno scorso quindi facciamo quasi un anno e io inizialmente venivo a un percorso in cui mi stavo avvicinando al mondo agricolo mi stavo riconvertendo professionalmente e non avevo un lavoro come me tante altre persone avevano tempo e quindi la trilogia del ragazzo che magari ha una crisi di identità che sta succedendo sempre più spesso perché il mondo del lavoro là fuori è feroce la competizione altrettanto e quindi uscire dalla città e venire nel campo respirare aria più pulita ascoltare suoni della natura e non claxon e ripartire dalla terra porta molto spesso giovani ma non solo a volersi riconnettere con se stessi e con il mondo sono persone che stanno in un percorso di trasformazione e quindi attraverso la comunità si specchiano anche con gli altri per crescere insieme poi ci sono anche persone che hanno una certa età hanno una carriera affermata inizio esperienza ci sono state anche delle donazioni dei prestiti da parte delle persone che fanno parte della comunità che magari non parteciano o parteciano meno dei giovani per quel che riguarda il lavoro duro sui campi però condividono appieno lo spirito e vogliono fare la loro parte anche economica si era una fase di transizione della mia vita ho vissuto in Italia all'estero per molto tempo sono tornato in Italia l'anno scorso più precisamente a Roma l'anno scorso perché volevo vivere in altre parti d'Italia io sono romano però ho scelto di venire qua per ragioni di famiglia e per caso a Rieti in una realtà simile ma diversa che si chiama Tularu ho partecipato a una festa la festa della mia editura che loro hanno e ho conosciuto Riccardo Saverio e Alice che soci e lavoratori l'anno scorso della CSA hanno presentato la CSA Semi di Comunità e sono detto wow ah cavolo mi sto trasferendo lì vicino ho detto che fantastica coincidenza non esistono coincidenze già sapevo che mi avrebbe cambiato la vita e infatti così è stato perché ho conosciuto tanti amici ho iniziato a investire su me stesso protetto anche da tante persone che già lavoravano nel settore agricolo mi hanno accompagnato e tuttora mi stanno accompagnando perché mi voglio riconvertire professionalmente e grazie a contatti della cooperativa ho iniziato a lavorare in un'azienda agricola qui vicino e quindi è diventata la mia famiglia qui a Roma io sono qui grazie a una mia compagna dell'Elementari di Milano mi sono trasferita a Roma quattro anni fa e dai suoi post su Facebook ho visto che c'era questo grande orto vicino a casa mia e le ho chiesto informazioni e sono venuta qua oramai a agosto dell'anno scorso quindi oramai è quasi un anno che sono socia e niente da allora all'inizio ero un po' venivo un po' sì un po' no però fin da subito mi sono sentita a casa e poi da qualche mese a questa parte ho avuto la fortuna di di essere accolta come membro di questa grande famiglia quotidianamente e quindi adesso oramai cerco di unire tutti i giorni e questa come dicevo prima è proprio una seconda casa come sono arrivato qui durante la quarantena ho cominciato a immaginare come avrei voluto che la mia vita continuasse perché questa quarantena l'unica cosa che ci ha fatto capire è che è veramente un'onda lunga lunghissima non è il fatto di stare a casa solo due mesi e in città io ho cominciato subito a respirare un'aria pesante perché tante persone hanno perso il lavoro tra cui anche io avevo un'attività che lavorava col turismo è tutto fermo e piuttosto che stare magari a casa o non utilizzare le mie energie ho deciso di andare verso la campagna e cercando su WUF ho trovato questa questa possibilità vicino Roma perché molti sono comunque sparpagliati nel Lazio anche distanti da raggiungere invece qui per me è un po' lontano perché comunque sono 30 km da casa mia da dove vengo quindi però comunque il tempo a disposizione c'è la voglia l'energia e quando vengo qui invece di essere magari stanco del lavoro in realtà mi ricarico non è soltanto il lavoro nei campi ma anche appunto conoscere persone che hanno una visione che vuole comunque cercare di portare un cambiamento ci vorrà tempo ce ne vuole tanto ma se ognuno mette il suo granello alla fine si può cui io sono qui è in realtà molto simile a quello di Davide nel senso che anche io ero fuori fuori dall'Italia sono rientrata e avevo voglia appunto di trovare un luogo in cui far parte di una comunità condividere un progetto con altre persone e conoscevo uno dei soci lavoratori mia mamma già veniva qui prima di me e quindi ho cominciato a venire insieme a mia mamma e mi sono sentita trovata molto bene mi sono sentita molto accolta e quindi continuo a venire e io invece sono uno dei soci lavoratori e diciamo che è stata una scelta proprio la CSA nel senso che io comunque lavoravo da tre anni in un'azienda con contratto a tempo indeterminato e dopodiché a un certo punto quando abbiamo visto ok facciamo la CSA io a un certo punto ho detto ragazzi io sto lasciando il lavoro e quindi si inizia seriamente e niente quindi da lì ho detto lascio lascio l'altra azienda e incominciamo qui e poi abbiamo iniziato tranquillamente io a livello lavorativo ho iniziato con mio papà e quindi arrivo da una formazione agricola familiare dopodiché sono venuto a Roma per questioni familiari diciamo ho sempre lavorato in aziende agricole però mi mancava la parte dell'inventarsi qualcosa un po' anche di appunto costruire un qualcosa che non sia soltanto faccio il lavoro prendo lo stipendio ma è produciamo idee e quindi è stato questo che mi ha fatto fare il salto di dire vabbè lo stipendio fisso chi se ne frega l'importante è essere realizzati e essere soddisfatti quello che si fa no sostenibilità economica e appunto noi siamo in piedi da da un anno e mezzo due ok quindi dire che funziona è presto a livello economico la cosa che noi stiamo notando è che a noi funziona nel senso che una volta che abbiamo coperto i costi e nei costi ci sono piantine semi lavorazioni ammortamenti per comprare il trattore vari attrezzi gli stipendi degli agricoltori che ci lavorano e tutto ciò che è costo se noi andiamo a coprire quei costi noi siamo sostenibili la questione è che noi abbiamo basato molto del lavoro per esempio l'amministrazione la comunicazione la appunto la gestione degli spazi e via dicendo l'abbiamo l'abbiamo organizzato in gruppi di lavoro volontari quindi viene remunerata la persona che lavora nei campi e che è il tecnico che porta avanti la questione la questione campi siamo partiti con una persona ritribuita e l'anno scorso per esempio c'è stato un socio che ha lavorato praticamente diciamo faceva altri lavori che gli hanno permesso di fare anche parecchio volontariato che poi è diventato il secondo socio lavoratore e quindi così ovviamente all'inizio c'è tuttora uno sforzo nel mettere in campo il proprio tempo la propria competenza senza chiedere una remunerazione cioè nel senso faccio tot tempo e voglio tot soldi ma è un accordo ci mettiamo d'accordo che a me bastano quei soldi che abbiamo deciso insieme e che e che quindi facciamo funzionare il progetto fondamentalmente e così funziona per l'amministrazione l'amministrazione sono quattro cinque soci che sono completamente volontari il tipo di agricoltura che cerchiamo di fare è ovviamente biologica però cerchiamo di andare oltre il biologico quindi cerchiamo di fare lavorazioni il meno introsive possibile al terreno non ribaltiamo mai gli orizzonti il che vuol dire che tutto il terreno che sta sotto sta sotto è tutto il terreno che sta sopra che è la parte più fertile sta sopra anche qui il cibo che produciamo è il cibo che poi andiamo a mangiare quindi meno prodotti utilizziamo meglio è e comunque anche quei prodotti che utilizziamo sono prodotti che appunto che si utilizzano in agricoltura biologica però anche lì non ci basta nel senso ok c'è la poltiglia bordolese dove c'è dentro il solfato di rame noi cerchiamo di non utilizzarlo o lo utilizziamo in casi nel senso di necessità e anche qui siamo in fase di sviluppo perché poi la questione è che appunto essendo nati da pochi abbiamo deciso sin da subito ok facciamo quello che sappiamo fare ok però poi adesso c'è la fase di evoluzione ok quindi però abbiamo delle idee da sviluppare vogliamo sviluppare delle idee quindi anche sul come produrre sul come coltivare c'è un dialogo dopodiché noi giusto appunto cos'è stato dieci giorni fa neanche settimana scorsa abbiamo fatto un una discussione sul sul fatto di avere la certificazione biologica il che a noi non ci porta niente perché non ci riferiamo non ci rivolgiamo a un mercato e quindi per ora all'inizio avevamo deciso di avere questa certificazione però adesso come gruppo agricoltura che siamo quelli che insomma lavoriamo tra soci lavoratori e i soci volontari è il gruppo che si 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 presta al lavoro agricolo maggiormente rispetto agli altri soci e quindi abbiamo deciso tutti insieme di proporre a tutti gli altri soci di uscire dalla certificazione biologica e di fare una certificazione appunto un'autocertificazione quindi fare sia un rendiconto a fine anno cosa abbiamo utilizzato a che mercato ci siamo rivolti perché anche lì non è una questione di mercato ma è una questione di consapevolezza completamente autosufficienti stiamo tendendo a questo naturalmente ancora no siamo partiti da un anno e mezzo quasi due e in realtà in questo momento produciamo ortaggi però abbiamo dei piani di investimento per il futuro quindi abbiamo un piano di impiantare un frutteto naturalmente selezionando le piante più consone al posto dove siamo come necessità di produzione e consumo che abbiamo abbiamo anche l'idea di avere delle galline e quindi integrare l'agricoltura e quindi la parte della coltivazione del fondo con anche gli animali e magari fare anche pascoli razionali e questi insomma sono tra i progetti più identificati ma ce ne sono anche tanti per esempio utilizzare i due ettari di bosco che abbiamo per produrre funghi o per fare anche esperienze didattiche nel bosco stiamo investendo anche sull'organizzazione dello spazio dal punto di vista estetico perché è già bello ma può diventare ancora più bello unire l'utile al direttevole quindi anche piantare aromatiche che possono essere utili per la cucina vogliamo creare degli spazi per accogliere i futuri volontari che verranno e quindi creare la possibilità anche di un soggiorno tramite woofing e quindi creare le nostre compost toilet e quindi le cucine e quindi la possibilità di abitabilità del posto sono tutti progetti che hanno bisogno di energie delle persone di voglia di fare e di tempo e quindi ci stiamo lavorando stiamo creando sempre di più come dire non sono sogni siamo proiettati verso questa realtà però viene costruita tutti insieme abbiamo totale 5 ettari quindi è impossibile produrre per esempio cereali o riso o insomma non è che potremmo essere 100% completamente indipendenti dalla grande distribuzione organizzata è molto difficile anche si potrebbe creare un distretto in qualche modo solo tramite distretti magari si riesce a raggiungere una percentuale elevata di autosufficienza quindi sarebbe bello in futuro e già si sta pensando di creare sinergie con altre CSA magari più specializzate per esempio nella produzione del grano o di altre cose però questo dipende molto da quello che si muove attorno non solo nella nostra comunità ma altre comunità linitrofe e questo ha a che vedere anche come dire è un processo un processo di trasformazione non solo locale ma come dire regionale nazionale no